Che fine ha fatto la Diana di Donza? Puoi dire che non conosci il seguito della storia? Ringen Feney ricade indietro sulla poltrona con il sorriso del collezionista che ha una rarità da mostrare. Per un altro sapeva di avere un buon ascoltatore. Non ha una grande opinione delle tabacchiere di Ringen, ma più delle volte vale la pena di ascoltare i suoi aneddoti. E' uno psicologo finito per sbaglio in mezzo ai soprammobili. E i pezzi più pregiati con cui far ritorno alle aste di Christis o dell'Hotel Drouot sono i frammenti di natura umana più pregiati che raccoglie su quegli storici campi di battaglia. Se avessi avuto altrettanto fiuto per le porcellane, a quest'ora avremmo già sentito parlare della collezione Feney. Possiede, questo eccentrico cacciatore del superfluo, una sensibilità sopraffina per la stoffa di cui sono fatti gli uomini. E gli esemplari che radunano il museo dei suoi disperati ricordi recano quasi sempre l'impronta dell'anomalo o dello stupefacente. Mi ritene pertanto fortunato di ignorare che fine avesse fatto la Diana de Downs e di avere davanti a me una lunga serata per apprenderlo. Sedevamo nel salottino squisitamente decadente del mio albergo sulla Riva Gauche di ritorno da un'eccellente cena da Foyot e sapevo che dopo averlo fatto accomodare su una bella poltrona che avegli messo davanti il portasigari Rinkham non si sarebbe mosso di un millimetro fino a che non avesse terminato il suo racconto. Ti ricordi il vecchio Knave, vero? Sai, Humphrey Knave, il piccoletto, lo vedevamo spesso a Roma dove tirava avanti con lavoretti saltuari. Viveva in due stanze minuscole, sopra una vineria, nutrendosi solo di polenta e lenticchie e appena aveva qualche soldo in tasca girondolava tra i rifiuti di via ripetta. Ma tu sei uscito dal giro da tanto di quel tempo che probabilmente non sai che cosa ne è stato di lui. È stato sempre un tipo fuori dal comune, Knave che avesse qualche anno più di noi ha in dubbio ma già la prima volta che lo vidi a Roma quando era ancora un pivello gli dè l'impressione di un uomo eccezionalmente esperto e maturo. Non credo di aver mai conosciuto qualcuno così semplice e al tempo stesso così intelligente. La combinazione perfetta per ottenere uno spirito romantico e il nostro povero Knave era chiaramente un romantico. Una volta mi raccontò come era arrivato a Roma. Era originare di Mystic nel Connecticut e voleva fuggire il più lontano possibile. Tra le tante città del mondo Roma gli parve la più distante e dopo aver fatto salti mortali per completare gli studi ad Howard tra turni di lavoro e cambi d'abito che noi due non possiamo neanche immaginare ottenne di essere mandati in Svizzera come precettore di un fanciullino che non aveva superato gli esami. A quel punto non aveva che da balicare le Alpi. Trovò un sostituto per il suo pupillo e si mise di filato in cammino per i sette colli. Ti racconto questi episodi giovanili solo per darti un'idea dell'idealismo di quest'uomo. Con la sua marcia fino a Roma ha dato prova di una forza di volontà e di un ardimento che non avremmo mai sospettato nel piccolo perdigiorno che abbiamo conosciuto. Una volta in città lavorò ancora come precettore. Si fece un nome persodendo i più indocili tra i suoi pupilli a saltare gli ostacoli e riuscì infine a dedicarsi all'attività a lui più congeniale di guida esperta in antichità per turisti di buona cultura. Dico che gli era più congeniale ma quanto dov'essere apparsa arida al suo spirito. Immagina di disvelare le sacre cicatrici del tempo al signore che mormorano. È successo proprio qui mentre si aggiustano con non curanza gli spilloni del cappellino. Se teneva duro, diceva era solo per il dolce pensiero di arricchire la sua collezione di lira. Perché Neve, caro mio cominciò presto la sua carriera di collezionista già dai suoi primi giorni a Roma quando si diede a raccogliere zanfusaglia di ogni genere né i nolli rotti, i ricami strappati estremità amputate di marmi mutili minutagli a che anche i robbi vecchi scartavano dopo aver passato il setaccio ai loro bottini. Ma agli occhi di Neve quegli oggetti non erano né anonimi né insignificanti. Il suo talento stava proprio nella capacità di identificare mettere insieme stabilire rapporti di senso. Era il cuvier delle chincaglierie. In quei primi anni avendo il tempo e l'agio di elucubrare su ogni infimo dettaglio e di prendere nota delle più impercettibili differenze affinò sempre più il suo istinto fino a trasformarlo nella sensibilissima e formidabile sonda che conosciamo. E prima che la sua raccolta di anticali arrivasse a valere mille franchi aveva già fama di esperto e i grandi antiquari si pregiavano di avvalersi della sua consulenza. Ma per tornare alla Diana di Dont successe che una quindicina di anni fa a Londra incontrai per caso Naive o da Christis. Era rimasto il piccoletto che avevamo conosciuto svaporato, scolorito indistinto come una pallida impronta invisibile come le sue prime scoperte eppure come quest'ultime dotato di una sua qualità che si avevano occhi per vedere. Mi disse che viveva ancora a Roma e che al costo di enormi sacrifici era riuscito a mettere insieme alcuni pezzi decenti un pochino alla volta raggrenellando una cosina qua e l'altra là a forza di digiuni e preghiere. E dico digiuni nel senso letterale del termine mi spiegò. Era a Londra per il suo annuale giro di perlustrazione. Suppongo che fossero ora l'uno ora l'altro dei grandi collezionisti con cui era in rapporto a pagare i suoi viaggi e quando lo incontrai si apprestava a visitare la collezione Don't. Il vecchio Don't come sai aveva un carterazzo ed era pressoché impossibile riuscire a vedere la sua collezione ma aveva saputo che Neiva era a Londra e lo aveva mandato a chiamare niente meno per avere il suo parere su alcuni pezzi tra cui la Diana. Il piccoletto era un tipo riservato ma può immaginare quanto andasse fiero di quell'invito e nelle euforie del momento mi chiese di accompagnarlo. Jaime Grande Petit Entré amico mio ho posto le mie condizioni e fu così che assistei al primo incontro tra Humphrey Neiv e il suo destino perché tale fu per lui quella collezione e più precisamente la Diana che era signora e sovrana dell'intero reame. Credimi ringrazierò sempre il cielo di essere stato presente nel momento in cui Neiv posò per la prima volta gli occhi sulla statua. me lo vedo ancora davanti che sbatte le ciglia bianche e alliscia i ciuffetti speracchiati che aveva al posto dei baffi per mascherare la contrazione dei muscoli. Malgrado l'apparenza calma il suo fu un vero e proprio coup de foudre. Me ne accorse dal tremore delle sue mani quando si girò e cominciò a esaminare il resto della collezione. Ricordi le sue mani? Sottili giallastre in carta pecorite con le lunghe dita indagatrici tese come antenne. Qualunque cosa toccassero bronzo o merletti cocci di ceramica o cristalli finissimi sembravano assumerne la sostanza quasi assorbissero dai polpastrelli l'essenza misteriosa che vi era racchiusa. Ebbene quel giorno mentre si aggirava tra i tesori di Don't la Diana lo seguì ovunque. Non si voltò più a guardarla si dedicò al lavoro per cui era stato chiamato ma qualsiasi cosa toccasse la sentiva sotto le mani e sulla soglia le lanzò la sua prima occhiata diretta il genere d'occhiata che dice sei mia. All'epoca mi divertì vedere il piccolo Neib fare gli occhi dolci a un'opera di proprietà di Don't. Era un po' come civettare con il Ko Ainur e dovete pensare anche lui qualcosa del genere perché quando voltammo le spalle al grande palazzo nel cuore di Belgravia si girò un'ultima volta a guardarlo e disse con un'amarezza che non gli avevo mai sentito prima mio Dio penso a quei tesori nelle mani di un vecchio bitorzoluto hai notato i ridicoli monconi che ha al posto delle dita immagino che se le sia mozzate scavando nelle miniere in cerca di pepite d'oro e in cambio delle sue pietruzze ecco cosa è riuscito ad accumulare e in un solo anno ti basta tendere un palmo calloso perché il pomo maturo della bellezza vi cauda dentro questa è la mia idea di paradiso una grande collezione o il successo o l'amore o una qualsiasi altra indescrivibile fortuna che ti piomba addosso all'improvviso io invece mi barcameno da 50 anni tra risparmi e rinunce costretto sempre per ingegnarmi a contrattare sui prezzi e il tutto per assimolare poche briciole sparse senza una sola opera perfetta nel mucchio ce n'è abbastanza per avvelenarsi il sangue uno sfogo del genere era talmente inusuale in bocca a nave che lo ricordo ancora a memoria e ricordo anche di avergli risposto immagino però che non scambieresti mai le tue mani con quelle di don't dico bene mi fissò per un momento e sorrise avere tutto quel ben di dio e brancolarci in mezzo come un pesce cieco in una grotta per l'amor del cielo e però a sapere che sono sempre i pesci ciechi a nuotare in certi acquari vi è in voglia di farsi anarchici dall'angolo della piazza dove si era fermato per dare alla luce quell'incisiva metafora si voltò a guardare indietro e aggiunse dio quanto vorrei lanciare una bomba in quel palazzo e prendere parte al saccheggio proseguendo sulla via di casa mi mise a parte del suo dolore sbendò la ferita e mi mostrò la profonda cicatrice che essa aveva lasciato nella sua piccola anima candida non erano le lotte gli stenti le privazioni a esasperarlo ma l'inadeguatezza del loro risultato si trattava insomma del vecchio dramma della discrepanza tra i desideri e la possibilità di realizzarli le risorse economiche di Naive non erano all'altezza del suo buon gusto il quale era come uno strano animaletto delicato e capriccioso che lui accudiva e vezzeggiava senza però poterlo soddisfare hai presente quelle lucertoline dei colori sgarzanti che sopravvivono solo mangiando una rarissima mosca tropicale ebbene il mio gusto è come loro ma con una differenza fondamentale se non trova la sua mosca mi si rivolta contro e mi divora da dentro e no il mio gusto malauguratamente non muore diventa sempre più ingombrante forte e intransigente i suoi morsi si fanno ogni giorno più terribili questo è quanto ed era proprio così col passare degli anni si era trasformato in un portentoso recettore di impressioni e sensazioni superando di gran lunga le normali facoltà percettive dell'uomo proprio come certi sofisticati strumenti di registrazione superano i nudi sensi umani ma solo per scoprire che l'unica bellezza in grado di appagarlo era preclusa che non avrebbe mai conosciuto l'intima e perfetta immedesimazione con l'oggetto che solo il suo possesso può dare in altre parole aveva appreso a riconoscere nelle massime espressioni dell'arte opere dove la bellezza tocca a picci inauditi come nel caso della Diana di Dont per intendersi infiniti tratti di perfezione infinite ragioni ultime ignote e imperscrutabili anche al comune senso artistico e per giungere così in alto era passato per un lungo e austero processo di disamina e cernita reiterando dei grandi rifiuti dell'intelligenza che chiede incessantemente di più restia tanto a scendere a patte con le sue posizioni del giorno prima quanto a lasciarsi stornare dal proprio obiettivo dalle illusioni delle nuove mode è un caso molto toccante quello di Neve è poco comune perché le nuove mode hanno quasi sempre la meglio il dramma capisci era che Neve non era un semplice collezionista e neppure un collezionista elevato al suo massimo grado di efficienza la sua passione era intrisa di poesia la sua immaginazione aveva conferito una valenza romantica al suo istinto predatorio proprio come nel medioevo il sentimento religioso aveva trasformato la concupiscenza in amore e tuttavia lui non poteva condividere il piacere astratto del filosofo che dice questo o quell'oggetto è veramente mio perché sono in grado di apprezzarlo Neve voleva ciò che apprezzava anelava a possederlo con le mani e con gli occhi oltre che con l'immaginazione poco meno di un anno più tardi di ritorno a Londra da un lungo viaggio in India aprì un giornale e rimasi di sasso Mr. Humphrey Neve compra la collezione Don't mi strofinai gli occhi e lessi una seconda volta non poteva che essere lui il nostro vecchio amico Humphrey un americano residente a Roma uno dei nostri collezionisti più esperti la descrizione non lasciava adito a dubbi mi infilai il cappello e mi precipitai fuori con l'idea di interrogare il primo antiquario che mi fosse capitato a tiro e venne così a conoscenza dei dettagli che hanno dell'incredibile Neve era entrata in possesso di una fortuna due o tre milioni di dollari accumulati da uno zio proprietario di una fabbrica di corsetti il quale doveva la sua ricchezza alla creazione del mystic super straight e tra parentesi non ti suona strano fabbrica di corsetti io lo immaginavo un indumento molto personale fatto pressoché su misura seguendo le forme che ha tenuto a modificare ma ad altronde se le statuette di Tanagra furono tutte create da due o tre stampi non vedo perché lo stesso non posso avvelere per le signore che indossano il mystic super straight ad ogni modo lo zio aveva un figlio e Neve non si era mai aspettato di ricevere un penne in eredità ma il figlio era morto anzitempo e il padre lo aveva seguito nel giro di poco lasciando in un codicillo del testamento tutto il suo patrimonio al nostro amico Humphrey dovete andare di persona alla fabbrica per credere ai propri occhi se avessi sentito il suo racconto e comunque tornò indietro con balloppo in tasca e il giorno stesso in cui approdò in città il vecchio Dont dichiarò fallimento un incastro da puzzle cinese ho idea che Neve abbia puntato dritto da Houston alla casa di Dont sia come sia di lì a due mesi la collezione era sua e a un prezzo che fece scalpore nell'ambiente parola del vecchio Dont la primavera successiva tornai a Roma e credimi se ti dico che la prima cosa che feci fu di cercarlo sulla soglia del palazzo Neve un portiere grande e grosso mi squadrò dalla testa ai piedi dovetti quasi esibire il passaporto per entrare ma non era colpa di Neve il poveretto era sediato giorno e notte da frotti di curiosi che scalpitavano per vedere la collezione al punto che doveva letteralmente barricarsi in casa quando finalmente lo raggiunsi dopo aver salito lo scalone di rappresentanza e aver attraversato una mezza dozzina di sale riecheggianti fino al più remoto e angusto recesso dello sfarzoso appartamento ricevetti lo stesso caloroso benvenuto che gli era solito tributarsi nella sua topaia sopra la vineria e così adesso è tua gli dissi da che passando avevo visto la Diana sullo sfondo blu e intricato di un'antica verdur che faceva risaltare per contrasto la sua grazia posata mi chiedevo soltanto perché la statua non fosse nella tua stanza sorrise sì è mia rispose con una calma che non mi sarei aspettato e tutto il resto? eh ho dovuto comprare l'intero lotto hai dovuto ma non era quello che volevi sbaglio o era la tua idea di paradiso tendere una mano e ritrovarla piena del pomo maturo della bellezza cito le tue parole Neve alzò gli occhi sorpreso e si grattò i baffetti ispidi sì ricordo di averlo detto ed è vero è il piacere supremo fece una pausa come se cercasse un pretesto per giustificare il suo tono tiepido mi dispiace solo d'essermi dovuto trasferire sarebbe stato impossibile stipare tutto nel mio vecchio alloggio lo credo bene questa sistemazione mi pare senz'altro più adatta Neve si alzò ti accompagno a fare un giro ci sono due o tre cosette che voglio farti vedere sono riuscito ad attribuire alcune opere sto rifacendo tutto il catalogo il desiderio di mostrarmi la collezione parve di scuoterlo dal vago torpore che avevo percepito in lui e la sua animazione crebbe quando presa illustrarmi i dettagli del suo lavoro di rivalutazione delle opere deplorando il vecchio Dante e i suoi consulenti per i ripetuti e madornali errori di giudizio la cosa di cui non mi capacito è la quantità di capolavori che è riuscito a radunare senza praticamente conoscerne il valore e gli emeriti imbecilli che compravano per suo conto non erano certo meglio di lui anzi avevano in più la colpa di ammirare per ogni genere di ragioni sbagliate ciò che il vecchio Dante desiderava solo perché apparteneva a un qualche uomo facoltoso Neve non aveva mai avuto a disposizione uno spazio così sontuoso in cui esercitare le sue impareggiabili doti critiche e in quell'occasione mi accorsi di come nelle estimazioni di un vero collezionista da come scientifico si accompagna la sensibilità immaginativa e di come gli affidi in ultima istanza il proprio giudizio a questa indefinibile facoltà percettiva ciò non di meno continuava ad avvertire il torpore che gli aleggiava intorno e lui che se ne accorgeva si interrompeva ogni poco per giustificarsi tanto per cominciare non riusciva ad abituarsi alla nuova casa di cui il mazzo portava l'ampiezza e la formalità secondo poi lo esasperavano le continue richieste di chi voleva visitare la collezione le donne ah le donne gemette passando a descrivermi una corpulenta principessa tedesca che aveva marciato tra i suoi tesori come se stesse ispezionando un reggimento di caballeria commentando con un atono splentito qualsiasi cosa vedesse dalle gemme intagliate al busto di Ercole e comunque sempre meglio lei delle intenditrici aggiunse con un ultimo sforzo ed ottimismo quelle che cabillano e ti dicono non sono certa che sia un botticelli o un cellini ma senz'altro viene da quella scuola ma le peggiori in assoluto sono quelle con un minimo di istruzione conoscono gli stili le date i termini specifici ma non saprebbero riconoscere un filia se fosse collocato dove non se lo aspettano aveva tutta la mia comprensione povero Neve ma questi sono problemi inevitabili per un collezionista e non sempre privi di un loro inconfessabile risvolto gratificante non bastavano certo a giustificare l'umore del mio amico e per un attimo mi chiesi se la collezione non lo avesse in qualche modo deluso ovviamente mi sbagliavo la collezione Daunt è praticamente al di sopra di ogni giudizio e mentre passavamo da un oggetto all'altro non potei fare a meno di notare quanto Neve fosse orgoglioso dei suoi possedimenti aveva tra le mani il pomo maturo della bellezza e ancora non vi aveva trovato imperfezioni un anno più tardi arrivò l'incredibile annuncio la collezione Daunt era in vendita inizialmente pensiamo tutti a una potatura e non oso immaginare la collera del vecchio Daunt all'idea che qualcuno intendesse potare la sua collezione ma il catalogo ci obbligò a ricredersi Ogni singolo pezzo sarebbe andato all'asta La notizia si diffuse come un lampo da Roma a Berlino da Parisi a Londra e fino a New York Ne deducemmo che Neve fosse andato in rovina e nuovamente i fatti si smentirono Gli antiquari capirono subito che non si trattava di questo Vendeva semplicemente perché così aveva deciso e la collezione fu puntualmente trasferita da Christis Come potrai immaginare nell'ambiente si si affrettò a trovare una risposta all'arcano e la risposta fu che a un'ispezione più attenta Neve avesse trovato la collezione inferiore alle sue aspettative L'ipotesi aveva dell'inverosimile ma d'altra parte non ne furono avanzate altre Ormai tutti lo consideravano il collezionista con il flare più infallibile d'Europa e se decidiva di dare via la collezione Daunt doveva essere necessariamente perché pensava di poter aspirare a qualcosa di meglio Questa voce si diffusa macchia d'olio e i compratori erano sul chi va là Io corsi a Londra per assistere alla scena e ti assicuro che non ho mai visto un'asta più scriteriata di quella Alcuni pezzi si difesero bene ma il grosso della collezione comprese alcune delle cose migliori fu battuto a metà prezzo Sai com'è Il vecchio Daunt l'aveva tenuta sotto chiave per vent'anni senza quasi mostrarla a occhio vivo e le generazioni di antiquari e collezionisti più giovani la conoscevano solo per sentito dire Si sa quale peso giochi la suggestione in casi simili Quella indefinibile sensibilità di cui parlavamo prima è uno strumento molto delicato Basta un crollo brusco della temperatura a metterlo fuori uso e anche gli esperti più perspicaci perdono fiducia a baldanza quando li investe la fredda corrente della svalutazione Lasta fu una carneficina e quando vidi la Diana cadere nelle grinfie di un infimo brocanteur viennese provai disgusto per l'insipienza della razza umana Per conto mio non credetti neanche per un momento alla storia della vendita oculata e nel giro di un anno la mia incredulità trovò conferma Non appena gli artefatti cominciarono a circolare tutti li riconobbero per le meraviglie che erano Fasi non c'era un pezzo dell'intero lotto che non fosse di altissimo valore e io continuavo a non capacitarmi del gesto folle di Neiv I compratori di tutta Europa presero a litigarsi le spoglie e furono molti gli sproveduti che si videro rifilare anticalie di ogni genere spacciate per pezzi della collezione Dont cosa faceva Neiv nel frattempo a lungo non ebbe sue notizie né occasione di tornare a Roma finché un giorno a Parigi mi imbattei in un antiquario che si era accaparrato per quattro soldi uno dei migliori blondi fiorentini della collezione Dont una placchetta di donatello gli domandai che cosa ne avesse fatto e mi rispose con un ghigno l'ho venduta l'altro giorno per una cifra che mi lasciò allibito Gesù chi è stato a sborsare una simile somma il ghigno si allargò e rispose Neiv Neiv Hansi Neiv non sapevate che sta ricomprando tutto ma è assurdo eppure è la verità non ha suo nome ma sta ricomprando tutto e lo stava facendo davvero in aggiunta pagando cifre che avrebbero fatto rabbrividire qualsiasi individuo sano di mente qualche settimana più tardi reperì le sue tracce a Londra dove stava tentando di riappropriarsi di uno smalto di penicò uno dei suoi tanti tesori dispersi infine scoprì in quale albergo alloggiava e lo affrontai a viso aperto Neiv vuoi dirmi cosa stai facendo non lo ammise subito continuò per un pezzo a sgranare gli occhi a ridacchiare a negare io però lo invitai a cena fuori e dopo mangiato mentre fumavamo gli dissi con fare non curante che avevo incontrato il proprietario del penicò e lui a quel punto crollò e confessò si finì è vero li sto ricomprando rise nervosamente attorcigliandoci i baffi poi mi raccontò tutto sai bene quanto mi struggessi per arrivare a stringere la perfezione assoluta una volta hai anche citato la mia immagine del pomo maturo della bellezza perciò quando ereditai il mio patrimonio e Don't quasi completamente persa il suo riconobbi all'opera la mano della provvidenza sapevo che se anche fossi stato più giovane e se avessi avuto più tempo a disposizione non sarei mai riuscito a riunire una collezione come quella avevo il pomo maturo a portata di mano e lo colsi ma una volta diventato mio vivendoci assieme compresi il mio errore il nostro era un matrimonio di convenienza che non aveva conosciuto il corteggio galante né la conquista ciascuna dei miei vecchi cimeli tutte le zampusaglie di cui mi sono sbarazzato per fare spazio alle glorie di Don't aveva una sua storia particolare portava trazze della passione con cui lo avevo desiderato e della scoperta la lotta la cattura l'attimo di beatitudine del possesso un segreto romantico mi legava a quegli oggetti e io avevo assorbito ad una ad una tutte le loro qualità erano ormai entrati a far parte del mio immaginario e infinite trame di associazioni inerfabili mi univano a loro come ho potuto credere di ricreare dal nulla lo stesso intenso legame personale con uno stanzone pieno di presenze fredde ed estranei che mi fissavano con uno sguardo assente dalle profondità di passati ignoti può immaginare pretesa più assurda di questa tanto più che le altre cose le mie cose mi avevano desiderato con lo stesso fervore con cui io avevo desiderato loro c'era un piccolo bronzo una venere calipigia in miniatura che mi aveva erretito e mi chiamava mi chiamava mi chiamava implorandomi di salvarla la locianità che la circondava nel volgare empolio di Biarritz in cui schiva e dignitosa viveva all'ombra di porcellane di sevro contraffatte e falsa argenteria olandese come capita di vedere certe donne rare distinte riservate rese pressoché invisibili dai vili splendori che le attorniano ebbene quella piccola venere settecentesca che non era che un pretenzioso tentativo di emulare la maniera antica ma che mi aveva rapito con la sua grazia invocante e commosso con la storia facilmente prevedibile delle sue origini anonime aveva catturato la mia immaginazione non esito a dirlo più della bellezza comprata all'inglosso della Diana di Dont la Diana di Dont proluppi aspetta un momento Neve la Diana di Dont sorriso è sdegnoso una bellezza mercenaria amico mio ogni testa doveva girarsi quando faceva il suo ingresso in una stanza oh Neve sospirai lo so pensi all'emozione che abbiamo provato la prima volta che l'abbiamo vista a Londra non si contano i poveri disgraziati che con un primo sguardo come il nostro hanno firmato la loro condanna io invece ho pensato bene di venderla vuoi sapere la verità? Ella è tebetta plurè rise e si rialzò dalla sedia scrollando le spalle disincantato perciò non sei pentito esitai e tuttavia stai ricomprando alcune cose Neve scoppiò in una nuova disata ironica sapevo che mi avresti scoperto e che avresti preteso delle spiegazioni ebbene sì sto ricomprando rimase in piedi davanti a me con un'aria tra l'imbarazzato e lo sfrontato sto ricomprando perché non c'è niente di altrettanto prezioso sul mercato e perché ho la vaga sensazione che stavolta sarà tutto mio ma è un gioco che mi sta portando alla rovina confessò era vero Neve si stava rovinando e da allora ha continuato ad andare in rovina in compenso ha quasi completato l'opera un pezzo da volta anno dopo anno ha riunito i suoi tesori dispersi a prezzi che i venditori non si sarebbero mai sognati di spuntare la storia della sua ricerca e ricca di particolari romanceschi mi è capitato talvolta di rincontrarlo e ho avuto il piacere di aiutarlo a recuperare alcuni frammenti era da non credersi la sua gioia al momento della riunione infine un paio d'anni fa ci rivedemmo a Parigi e mi disse di aver riacquistato tutti i pezzi importanti tranne la Diana la Diana? ma mi avevi detto che non ti interessava non mi interessava si sporse sul tavolo del ristorante a cui sedevamo in effetti è vero in un certo senso vedi volevo che lei mi desiderasse cosa che al tempo non faceva ma adesso la sento invocarmi con tutta la voce che ha in corpo per caso sai dov'è? mi domandò di sovrassalto lo sapevo al centro del salotto giallo e oro di Miss Willie Goldmark sotto un lampadario da mille candele elettriche con riflettori ai quattro angoli della stanza puntati su di lei l'avevo vista tra salire e tremare nella sua nudità oltraggiata a uno degli affollati ricevimenti dei Goldmark ma non puoi averla lo avvisai no non posso averla disse lui in conclusione un mese fa sono andato a Roma da dove mancavo da sei o sette anni e naturalmente l'ho cercato il palazzo Neib era stato affittato a una ricca famiglia russa e il nuovo portiere impeccabile non sapeva dove fosse il proprietario ma non faticai troppo a mettermi sulle sue tracze le quali mi condussero a un pittoresco angolo di trastevere dove sorseva un antico palazzo al nerito decrepito adibito a casezzato e addorno di fili da bucato da cui penzolavano stracci vecchi trovai Neib nel sottotetto dove viveva in tre stanzette gelide impregnate degli odori della cosine di tutti gli inquilini un ometto rattrappito logore trasandato eppure più vitale di quando mi aveva mostrato la sua collezione a palazzo Neib aveva di nuovo le sue cose intorno a sé non esibite all'interno di vetrine o sopra tavoli di marmo ma mucchiate su scaffali inerpicate in cima a sgabelli stipate contro i muri del suo alloggio basso e malilluminato che traboccava ad ogni angolo del luccichio del bronzo dell'opalescenza del vetro antico dei palli di riflessi del marmo eccole lì le superbe presenze che lo avevano squadrato dall'alto dei loro piedistalli nel palazzo d'Ont e che avevano brillato nella loro fedda bellezza trapiantata sotto i cornicioni decorati del palazzo Neib eccole lì raccolte in umile promiscuità intorno alla sua figura curva e sensosa come creature altere e focose domate e adottate da un vecchio stregone inoffensivo ogni volta che muovendosi tra i suoi oggetti Neib ne sollevava uno che lo portava sotto la luce di una finestrella e sue mani tremavano come le avevo viste tremare la prima volta che aveva esaminato la collezione nel palazzo d'Ont la sua vita era tutta racchiusa nei suoi polpastrelli e sembrava trasmettersi ai tesori che toccava penserai che io sia rimasto contagiato dal suo misticismo se dico che di fatto esse rifulgevano di nuova bellezza quando lui li teneva in mano facciamo il giro della collezione lentamente con reverenza e quando ormai pensavo che la visita fosse conclusa e mi apprestavo ad accumiatarmi Neib aprì una porticina che non avevo notato e dalla fessura vide un'altra stanza spoglia come una cella monastica e grande appena da ospitare un piccolo letto di ferro e il baule in cui probabilmente teneva i suoi pochi vestiti se non che in una nicchia scavata nella nuda parete ai piedi del letto si ergeva la diana di D'Ont a quella vista ebbi un sussulto e mi girai a guardarlo lui mi restitui lo sguardo senza dire una parola che razza di magia hai usato per riuscirci il suo sorriso parve emergere dagli abissi di un'estasi segreta chiama la magia se vuoi ma mi ha mandato in rovina lo fissai in silenzio allibito dalla follia e dalla grandiosità della sua impresa e tutto a un tratto rosso fino alle orecchie Naive confessò come un bambino ti ho mentito quella volta a Londra quando ho detto che non mi importava di lei non ho mai smesso di sognarla di adorarla di desiderarla ma prima non era mia lo sapevo io e lo sapeva anche lei ora invece ci intendiamo bene mi lanciò un'occhiata timida poi feci girare lo sguardo per la cella di Sadorna lo so meritava di meglio è nata per glorie che io non posso offrirle ma le cose belle mio caro Finni come le belle anime non vivono in dimore fabbricate da mano dell'uomo il suo viso riluceva di un indicibile dolcezza e capì che aveva fatto suo il segreto di cui noi tutti andiamo in cerca forse è vero meritava di meglio l'alloggio è squallido e miserevole come quello che aveva un tempo sopra la vineria oserei dire anzi che è più squallido e più miserevole di quello ma lei finalmente vi regna incontrastata si libra sfolgorante sopra di lui e la notte ne sono certo scende furtiva dalla sua nube per dargli il bacio della dea Selene grazie